Lo spirito della nostra struttura, del nostro albergo è di far sentire a casa i nostri clienti. Allora, il nostro hotel, la Donnarella, ha una gestione familiare. Siamo io, mio padre e mia nonna tanti anni fa e cerchiamo di far sentire il cliente a casa. Infatti spesso i nostri clienti ci dicono proprio questo, di sentirsi a casa. Nel periodo iniziale, noi riapriamo a marzo e fino a giugno abbiamo una clientela internazionale per lo più americana. Poi, periodo estivo, luglio-agosto, abbiamo gran parte italiani, anche molti napoletani. Allora, la nostra struttura offre un ristorante nel periodo estivo sulla terrazza panoramica che i nostri clienti apprezzano molto, sia per la cucina non turistica che per la vista che c'è qui e per l'atmosfera che c'è su questa terrazza. Poi abbiamo una spiaggia privata dove è possibile accedere anche da clienti esterni e lì ci sarà il ristorante comunque anche a pranzo con sempre lo stesso staff che abbiamo anche sulla terrazza, la stessa qualità, un po' più semplice, però comunque sempre con la stessa buona qualità che abbiamo anche sulla terrazza. Grazie a tutti!